Ciao a tutti, come avete visto dal titolo, questo è il video per il contest entry di Chiara Kawaii Dreams 11 e le do un grasso bacio e iniziamo subito con farti vedere le creazioni allora, ti mostro questa che diventerà una collana che è praticamente una barriera caurallina allora, ci sono questi coralli stella marina, altri tipi di coralli e altre stelle marine poi, ho realizzato questo piccolo vagone questa banana split con rilakkuma, chiroitori e korilakkuma poi, ho realizzato questa Rapunzel Kawaii poi, ho realizzato questo pony con i colori pastello poi, questa Trilly elfo pan di stelle poi, questa mini figurine con i cookies e il cookie monster poi, ho realizzato questa grande figurine con rilakkuma versione Mel Simpson versione Mel Simpson con le patatine che colano colano le patatine, vabbè con le patatine che cadono Coca Cola la ciambella la pizza squaiata e il rilakkuma con il telecomando abbastanza agliatto poi, quest'altra figurine con cenerentola e il principe manga poi, non so se conosci Pokémon questo è Hojavut poi, vediamo se ho cos'altro piatto giapponese notebook kawaii e infine questo piccolo kanguro allora queste sono tutte le mie creazioni per il tuo contest spero che ti siano piaciute doni in bocca al lupo a tutte le partecipanti ci vediamo nel prossimo video ciao ciao